Chi era prima al telefono? Non mi ricordo Ti è arrivata una sola telefonata? Possibile che non ti ricordi? Ma sì, era l'ingegner Frasca Ah, evitate del tu con l'ingegner Frasca Sì, siamo amici del liceo e domani ci dobbiamo vedere per una rogna Ma perché quando l'hai salutato gli hai detto Porta il metro che lo misuriamo Che cosa dovete misurare, tu e l'ingegner Frasca? Marte Non mi chiamare Marte, lo sai che mi dà fastidio Martide, o meglio Martide Ma che stai pensando? Sto pensando al tuo tono di voce Complice Suadente Agli ingegneri non si parla così Ma perché c'è un modo particolare di parlare agli ingegneri? O a Siria Siria Ancora consiglio Ma come devo fare con te? È impossibile che tu sia il santo che vuoi farmi credere Ma che ti viene? Ma lo sai che il tuo caro amico Roberto ha avuto una tresca durante l'addio annubilato? Ce li bada vorrei dire No, no, annubilato Ma come fai a dirlo? Perché quando la sua fidanzata è uscita con le sue amiche per festeggiare Lui si è visto con una Alessia Te l'ha detto Alessia? Giusto? Che sciampista Amore Tra un taglio e una piega parliamo di tutto Lo sai che ti fa male andare dalla parrucchiera? Comunque Con l'ingegner Frasca domani devo andare a misura del capannone dei miei Bene Allora andiamo a dormire Che domani ci spettano della taccia Ti aspetto amore Allora andiamo a dormire